Oggi ci interessiamo dell'architettura neoclassica. Il linguaggio architettonico neoclassico possiamo comunque dire immediatamente che è stato un linguaggio internazionale, nel senso che si è rivelato nei vari paesi dell'Europa e anche oltre l'Europa con le medesime forme e i medesimi principi. Forme e principi che si ispiravano ovviamente al mondo classico, in particolare al mondo greco e anche a quello romano. Assistiamo alla ripresa di modelli e tipologie propri del mondo greco-romano. Lo stile neoclassico si contrappose a quello immediatamente precedente, cioè al barocco e al rococò in particolar modo, proprio riprendendo gli stessi principi di ordine e di armonia della tradizione classica. Il barocco e il rococò erano caratterizzati da forme irregolari e dall'estrema ricchezza di elementi decorativi. Il neoclassicismo invece preferì edifici con piante simmetriche e proporzionate, superfici lisce, con pochi abbellimenti. Gli edifici neoclassici infatti sono facilmente riconoscibili, innanzitutto perché assomigliano al tempio greco, piuttosto che al pantheon o a qualche altro, a una villa romana e così via, sia per la presenza anche di elementi costruttivi della tradizione greco-romana, come la colonna, la trabbiazione o il timpano, in genere anche combinati tra di loro. Facciamo ora una breve panoramica nei vari paesi europei. Cominciamo dalla Francia. Diciamo che nel XVIII secolo il pensiero su cui si impostava la cultura francese era basato sugli ideali di chiarezza e di certezza matematica. Praticamente parliamo dell'illuminismo e del razionalismo cartesiano. In questo clima culturale si impossero alcuni teorici dell'architettura, come ad esempio l'abbate Laugier, che sosteneva la necessità di eliminare dagli edifici tutti gli elementi decorativi. Questa tesi si fondava sullo studio attento che lui aveva fatto sugli ordini architettonici e sulla conclusione che tutti gli elementi che erano caratteristici del tempio, la colonna, la trabbiazione, eccetera, non avevano un carattere decorativo ma esclusivamente strutturale. E poiché, secondo la cultura neoclassica, gli esempi massimi di buona architettura erano proprio quelli greci, e ecco che quindi bisognava uniformarsi a questo tipo di struttura, secondo il Laugier. Uno degli edifici che probabilmente incarna in pieno le teorie del Laugier è la chiesa di Saint-Genevieve a Parigi, chiamata oggi Pantheon. La chiesa fu progettata da Jacques Germain Souffleau. L'edificio fu commissionato dal re di Francia Luigi XV nel 1753 e doveva essere dedicata, anzi era dedicata, alla santa protettrice della città. Come possiamo osservare, l'impianto planimetrico è riconducibile ad un impianto centrico, a una cruce greca. Sono quattro bracci che si incrociano al centro. I bracci sono a navata unica, mentre hanno dei corridoi laterali soprelevati. A loro incrocio si troviamo un'enorme cupola, un'alta cupola, come è possibile osservare da questa immagine. La facciata trae ispirazione dal Pantheon di Roma e come possiamo osservare ha un prono a colonne corinzie con un timpano che la sormonta. Alle spalle poi si vede anche la cupola, che ovviamente non riprende esattamente quella del Pantheon, ma è una rielaborazione del suo flucco. Continuando con la Francia, durante l'impero napoleonico, la Roma imperiale era diventata il principale modello anche per gli interventi urbanistici della capitale francese e per l'arredamento. Due architetti, due artisti, furono nominati da Napoleone, appunto architetti ufficiali. Si tratta di Charles Persier e Pierre-François Fontaine. Questi realizzarono molti monumenti a carattere celebrativo, ma si occuparono pure di decorazione di interni, curando appunto proprio arredi su pellettile e così via. Le scelte che loro operarono diedero poi in seguito origine a quello che noi oggi chiamiamo lo stile impero, il nome che indica appunto l'applicazione di modelli antichi anche alle arti applicate, cioè all'oggettistica in generale, dall'arredamento e così via. Fra le altre opere realizzarono questo enorme arco di trionfo che si trova a Parigi, l'Arc du Carousel. Ovviamente anche questo arco di trionfo, come per gli antichi archi di trionfo romani, fu realizzato per celebrare una vittoria, quella è precisamente la vittoria di Napoleone ad Austerlitz. Ovviamente, come possiamo vedere, è costruito sul modello appunto dell'arco, precisamente l'arco di settimio severo. Esso è policromo, cioè è colorato ed è ricchissimo di basso rilievi ed ha un aspetto effettivamente trionfante. Passiamo adesso all'analisi di un altro visionario architetto del tempo. Si tratta di Boullée. Boullée, insieme a un altro architetto, appunto, l'Educ, preferirono l'essenzialità delle forme geometriche pure in contrapposizione appunto all'enorme decorativismo del periodo precedente. Il fondamentale per Boullée fu la formazione illuminista. Lui era molto vicino agli intellettuali dell'Encyclopedia che curarono Diderot al D'Alembert e elaborò una forma di architettura con un carattere fortemente simbolico ispirata a valori morali perché lui aveva il concetto che l'arte aveva un fine ed il fine era il progresso della civiltà. Aveva quindi lo scopo di educare la società. In realtà le sue le sue invenzioni le sue architetture poco tengono in conto degli aspetti realizzativi e degli aspetti tecnici. Lui ha progettato delle architetture monumentali talmente fuori scala da non poter essere realizzate tecnicamente o almeno con le tecniche del tempo per cui le sue architetture rimangono tutte delle idee e possiamo chiamarle delle vere e proprie utopie architettoniche. Pur nonostante hanno un alto valore appunto educativo perché portano idee fortemente innovative nel campo architettonico. una delle opere più celebri di Boullet è quella che vediamo in questo momento è il Cenotafio di Newton un monumento che è stato progettato nel 1784 proprio per celebrare Newton. in qualche modo il Cenotafio di Newton ricorda gli antichi mausolei romani e per la sua forma rievoca il cosmo appunto il cosmo a cui Newton aveva studiato aveva cercato di indagare. L'edificio come possiamo osservare è concepito come un'enorme sfera che per Boullet era il il solido geometrico più puro e più regolare e questa enorme sfera è poggiata su una base cilindrica fatta a gradoni e ornata di alberi. L'interno della sfera è stato pensato completamente cavo e alla base vi doveva essere posizionato un sarcofago circondato poi da piccole figure di oranti mentre al centro in alto vi era sistemato un grande astrolabio sferico che era uno strumento scientifico sospiso appunto al centro dell'enorme sfera. secondo il progetto il cenotafio doveva riprodurre il ritmo dell'universo che era stato appunto studiato da Newton con rappresentazioni l'alternarsi del giorno e della notte infatti l'astrolabio che è sospeso al centro è luminoso e di notte avrebbe illuminato appunto l'interno la cavità interna imitando la luce del sole viceversa di giorno avrebbe imitato il cielo stellato e le costellazioni mediante dei piccolissimi fori operati appunto sulla copertura che lasciavano filtrare avrebbero dovuto lasciare filtrare la luce del sole appunto posizionati in maniera tale da raffigurare esattamente le costellazioni visualizzabili nel cielo notturno anzi proprio il variare della posizione del sole a seconda dell'ora e della stagione avrebbe riprodotto il mutamento della visualizzazione delle costellazioni nel corso della notte e dell'anno passiamo allo sviluppo dell'architettura neoclassica in Inghilterra con il suo maggiore esponente Adams Robert Adam è un architetto di origine scozzese che ha soggiornato per lungo tempo in Italia dove ha potuto studiare con diciamo con molta cura le testimonianze del passato le ha spesso ricopiato sui suoi appunti sui suoi quaderni e così via si ispirò molto anche a un architetto del tempo italiano di cui era molto amico di Piranisi precisamente Adam in qualche modo sviluppò un interesse particolare proprio in Italia per l'architettura domestica per le ville in particolar modo si fu affascinato proprio dalle dalle ville patrizie di Palladio questo interesse e gli studi che egli esegui lo portarono poi a realizzare numerose opere in patria destinate proprio alla trasformazione all'ampliamento in generale di dimore già esistenti pertanto lo stile che da lui prese origine fu poi detto e oggi lo conosciamo come il neopalladianesimo uno degli esempi più significativi è la struttura che vediamo qui in immagine è Cadleston Hall nel Derbyshire osservando la pianta ci accorgiamo immediatamente come le caratteristiche principali sono proprio la simmetria e la funzionalità della disposizione dei vari ambienti ma questa pianta è molto simile ad una pianta di un edificio di Palladio che vediamo qui nell'immagine si tratta di Villa Mocenigo alla Brenta ed è un progetto di Palladio mai realizzato in ambedue i progetti è facile notare come il corpo centrale in cui si trovano proprio gli ambienti di rappresentanza e di svago funge da raccordo per quattro padiglioni esterni e indipendenti e questa è quella di Adam appunto Keylesson Hall per quello che riguarda la facciata invece come possiamo vedere Adam reinterpresa la struttura dell'arco di trionfo romano di Adam poi sono particolarmente interessanti e originali le installazioni degli interni anche di altre ville di altre strutture come possiamo vedere qui si tratta di Sion House gli interni gli interni di Adam sono come possiamo osservare caratterizzati da una ricchezza molto appariscente appunto un po' seguendo il gusto dei citi altolocati e aristocratici del tempo Sion House era un edificio medievale si trova nei pressi di Londra e Adam lo ristrutturò intorno agli anni 60-70 del 1700 l'ambiente è definito da 12 colonne che si trovano lungo il perimetro questa è l'anticamera di Sion House come possiamo vedere le colonne sono sormontate da capitelli ispirati a quelli dell'Ereteo sull'acropoli di Atene sull'architrave che sormonta poi gli stessi capitelli e che circonda l'intera stanza vi sono collocate alcune statue dorate che un po' riecheggiano questa volta ricordano un po' le terme romane infatti è proprio questa capacità che ha dimostrato Adam di riuscire con eleganza a combinare dettagli che derivano da epoche differenti che lo decretò come uno dei maggiori architetti del tempo e gli di De Fama è illustro passiamo ora al neoclassicismo in Germania diciamo subito che gli architetti tedeschi rispetto agli altri nelle altre nazioni mostrarono una predilizione spiccata per l'arte greca differentemente rispetto a quella romana e questo in conformità proprio con il pensiero di Winkelmann il quale ne sosteneva assolutamente la superiorità a Berlino nella prima metà del del settecento tra la fine del settecento e il milleottocento era attivo Schinkel Carl Friedrich Schinkel e lui deve la propria fama proprio alla progettazione tra i più importanti rilevanti edifici pubblici di Berlino della capitale tedesca tra i quali spicca proprio quella che stiamo vedendo adesso che è l'Altes Museum una struttura che sorse per ospitare le collezioni d'arte della famiglia reale del tempo l'edificio in realtà è impostato su una pianta rettangolare e al centro di questa enorme di questa enorme salone questa enorme pianta vi è una grande sala rotonda che è sormontata da una cupola e in questa sezione trasversale ne possiamo apprezzare appunto le caratteristiche la cupola e come si può vedere è ispirata chiaramente al pantheon però lo Schinkel volle dare a tutto l'edificio un'immagine di orizzontalità un'immagine netta di orizzontalità come possiamo osservare proprio dalla facciata e infatti che cosa fa per rendere ancora più marcato questo aspetto dell'appunto dell'orizzontalità rende invisibile all'esterno la cupola stessa perché la incassa in una sorta di volume cubico di cui si vede un pezzettino al centro e crea una lunga facciata in cui vi è un grande maestroso portico con 18 colonne ioniche di ordine gigante un basamento e un semplicissimo architrale senza frontone sempre nello stesso periodo è attivo anche un altro grande architetto neoclassico tedesco Franz Carl Leo Kleinze il suo progetto più noto è quello che è chiamato il Valalla si trova nei pressi di Ratisbona è un grande edificio che fu voluto dal principe Ludovico di Baviera proprio per ricordare le vittorie che l'esercito tedesco aveva ottenuto contro Napoleone per la progettazione di questo edificio allora Kleinze prese a modello proprio il partenone di Atene infatti come vediamo posizionò l'edificio su un grande podio un podio che poi lui ha terrazzato un po' simile all'acropoli di Atene o comunque ricordo molto l'acropoli di Atene e l'ha posizionato sulla cima di una collinetta ponendosi così come punto di riferimento per tutto il territorio circostante lo scopo del monumento era quello di celebrare la nazione tedesca ricorrendo alla leggenda del Valhalla secondo appunto la mitologia del Valhalla il Valhalla era il luogo dove le valchirie che erano delle creature divine in qualche modo accompagnavano le anime degli eroi morti per la patria quindi le accompagnavano insomma erano le anime di questi eroi che erano morti per la patria erano comunque delle anime elette e quindi venivano accompagnate proprio dalle valchirie nel Valhalla appunto per questo all'interno dell'edificio si conservano ancora oggi i busti in marmo dei più celebri personaggi della storia tedesca quindi possiamo dire che l'edificio è la celebrazione del del mito della nazione tedesca e veniamo ora ad analizzare la situazione italiana del tempo certo l'Italia in quel momento in quegli anni era al centro degli interessi di intellettuali e culturi perché era proprio meta di artisti e collezionisti ma la stessa Italia e lo stesso paese mancava di una cultura unitaria perché era diviso in tanti piccoli staterelli spesso che erano in contrasto tra di loro o dominate anche da diversi governi stranieri quindi vi era una forte frammentazione politica e questa frammentazione si rifletteva anche in ambito architettonico e quindi in qualche modo ogni regione presentava le proprie peculiarità i propri interessi insomma diversi tra i gatti quindi l'estetica neoclassica che è un'estetica unificatrice in qualche modo si tardò ad affermarsi in Italia a meno di qualche regione come per esempio Milano dove già durante la dominazione asburgica si distinsero i progetti di Giuseppe Piermarini in molte altre città gli interventi architettonici urbanistici di stampo neoclassico coincisero fondamentalmente con l'occupazione francese che però avvenne alla fine del Settecento a ridosso del 1800 e questo successe proprio perché Napoleone riuscì a unificare in qualche modo il paese stesso o gli interventi avvennero ma a distanza di tempo quindi già nel 1800 quindi dopo la caduta di Napoleone Milano aveva un ruolo centrale già a partire dalla seconda metà del Settecento infatti partecipò in qualche modo al rinnovamento culturale e architettonico di cui beneficiavano un po' tutti i paesi dell'Europa in quel tempo grazie proprio alla dominazione illuminata degli Asburgo e a un gruppo anche di aristocratici e intellettuali della città quindi in questo clima culturale abbastanza diciamo in fermento si riuscirono ad affermare si riuscì ad affermare il nuovo stile ormai internazionale neoclassico e all'affermazione proprio nella città contribuì enormemente un architetto appunto Giuseppe Piermarini lui era stato allievo e collaboratore di Luigi Van Vitelli e ottenne degli importantissimi incarichi proprio dalla monarchia austriaca la sua opera più famosa tra le altre è proprio quella del teatro alla scala di cui vediamo la facciata che divenne ben presto il prototipo di eleganza e di funzionalità insieme diciamo seguendo proprio i dettami di un'architettura funzionale illuminista neoclassica appunto l'edificio deve il suo nome perché sorse sul sul sito di una chiesa che si chiamava appunto Santa Maria alla scala e fu costruito per volontà di Maria Teresa d'Austria la quale volle fortemente questo edificio a seguito di un incendio che aveva distrutto il precedente teatro reggio ducale la facciata come possiamo osservare è articolata su tre livelli il primo quello più basso è abbugnato quello superiore abbiamo delle semicolonne che scandiscono la superficie e poi abbiamo il terzo che praticamente possiamo dire liscio a meno di quegli accenni di lesene che possiamo osservare nella parte bassa vediamo che vi è un portico per le carrozze e una terrazza con un timpano poi in alto che appunto enfatizza l'importanza proprio della parte centrale la sala interna vediamo che ha ferro di cavallo e vi è praticamente una sequenza di palchi in legno poi nei diversi piani interni vi erano posizionati i vari ambienti destinati a uffici diatri sale d'aspetto le botteghe i caffè il ristorante e così via quindi proprio questo la razionale disposizione degli spazi l'acustica perfetta praticamente che contribuirono alla realizzazione di un teatro realmente funzionale probabilmente uno dei maggiori e delle migliori strutture pubbliche basate sugli ideali illuministi ad esempio la stessa presenza del portico in facciata aveva uno scopo funzionale quello di non far bagnare in caso di pioggia le persone che arrivavano con la carrozza appunto sotto il portico per accedere al teatro stesso di un teatro stesso e un teatro stesso